Questa è la seconda parte del video, lo scopo dell'articolo di Vittorio Feltri messo ai commenti degli altri video in cui viene promulgata, propagandata, diffusa la tesi del missile che diventa quindi verità basata su una pura ipotesi. E' quello di portare le persone a ragionare sul fatto che ci sia qualcuno che dice che non è stato un missile, qualcuno che lo ha potuto fare utilizzando il mezzo per antonomasia utilizzato per propagandare la tesi del missile, soprattutto sulla stampa, ma c'è anche chiaramente tutta la parte mediatica di televisioni, spettacoli. E' anche il film. Quindi è un buon inizio, speriamo che non servano 40 anni per far capire che tutto quello che finora è stato detto riferito al missile è una grande bugia. Non è stato un missile, lo ripeterò quasi sempre in quasi tutti i video, è stata una bomba, ma chi dice che è contro i depistaggi e parla di missile in realtà è il primo che depista. Con questa breve frase concludo la seconda parte del video, ci diamo appuntamento al prossimo che avrà comunque come sempre un tema riferito alle tante cose false che vengono dette e a cui purtroppo la gente crede. A presto.